Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. In apertura c'è la pagina di cronaca pomeriggio di Paura Pietrasanta in centro per un bambino di 5 anni che è rimasto con un braccio intrampolato in una impastatrice nella pizzeria dei genitori. Intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo è stato portato all'ospedale Meyer di Firenze. Sentiamo in particolare in questo primo servizio. Una fatalità o forse una banale distrazione. Difficile capire cosa sia successo esattamente ma di certo si sono vissuti momenti di panico oggi pomeriggio in una pizzeria del centro di Pietrasanta dove un bambino di appena 5 anni è rimasto con un braccio intrappolato in un'impastatrice. Per fortuna il peggio è stato evitato. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 alla pizza edilizia di via Oberdan gestita dai genitori del piccolo che si trovavano con lui nei locali cucina. All'improvviso le grida di dolore e di spavento del bimbo e il braccio destro incastrato nella macchina per impastare. Per fortuna la manina non è arrivata alla macina. Immediato l'allarme ai soccorsi. Per primi sono arrivati i vicini. È subito sembrato impossibile liberare il braccio, neppure con un piede di porco. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco che seppur con qualche difficoltà iniziale sono riusciti a sbloccare la macchina. Il bambino è stato portato in ambulanza allo stadio comunale da dove è decollato l'elicottero Pegaso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Meyer a Firenze. I sanitari hanno individuato una frattura alla mano. L'episodio ha creato non poco scompiglio in centro a Pietrasanta. Il locale è rimasto chiuso per il resto della giornata. Andiamo avanti ancora con la cronaca. È finito manetta uno spacciatore versiliese di Seravezza di 40 anni che cedeva dosi di cocaina a casa. Pensate, nel giro di pochi anni aveva guadagnato oltre 160.000 euro. Sentiamo i particolari. Oltre 4.000 dosi di cocaina vendute in 4 anni ad assuntori da tutta la Versilia per un giro di affari e di guadagni che supera i 165.000 euro. È davvero notevole il business legato alla droga che un seravezzino di 40 anni si era creato negli ultimi anni. Stroncato però in queste ore dai carabinieri di Viareggio. Tutto avveniva in casa, il più delle volte, nel comune di Seravezza, dove gli acquirenti arrivavano. Altre volte gli scambi avvenivano in zone diverse, nascoste, stabilite telefonicamente, con messaggi in codice, di volta in volta, ma sempre nelle zone di Querceta, Forte Remarmi e Pietrasanta. Lunghe e dettagliate le indagini condotte dai militari della Compagnia Viareggina che dal settembre 2013 ad oggi, attraverso pedinamenti e appostamenti mirati, hanno permesso di ricostruire i dettagli del giro di spaccio. Nel corso di attività di indagini sono stati individuati diversi acquirenti, parliamo circa una trentina, ma naturalmente il periodo è limitato del 2013 e del 2017, quindi non si esclude che ci possano essere altri acquirenti. Di fasce d'età che variano dai 20 ai 50 anni, quindi diverse tipologie di persone. Per il quarantenne versiliese si sono aperte le porte del carcere di Lucca, come disposto dalla procura, sulla base degli indizi raccolti dai carabinieri. Una vendita al dettaglio, dunque, ovvero dallo spacciatore e l'acquirente, che al momento esclude canali più elevati. Al momento le indagini sono concluse, proseguiranno magari gli accertamenti per verificare i canali di approvvigionamento di questo stupefacente. Sicuramente l'attenzione dell'arma dei carabinieri al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti rimane alta, quindi sicuramente è un risultato molto importante che proseguirà nei prossimi tempi. In quest'ora c'è stata anche un'altra operazione antidroga, sempre dei carabinieri, ancora sul territorio di Seravezza, un vero e proprio blitz all'alba nella campagna di Querceta, che ha portato a scovare e smantellare una pianta a giorni di cannabis coltivata da un italiano di 44 anni. Cinque le piante che sono state trovate, dell'altezza di 2,20 metri, sequestrate e poi distrutte, come vuole la prassi. Già da tempo i carabinieri stavano indagando, c'erano vari movimenti sospetti che li avevano indirizzati nella zona. L'uomo è stato individuato nel giro di poco tempo e perquisita la sua casa sono stati rinvenuti e sequestrati 470 grammi di marijuana già essiccate, dunque pronta per essere distribuita e dunque spacciata. L'uomo è stato arrestato, l'accusa ovviamente è produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si trova adesso ai domiciliari. E ancora per la cronaca, la polizia di Viareggio e gli agenti del commissariato Viareggino hanno acciuffato una ragazza romena di 24 anni, nota ormai per mettere a segno dei veri e propri scippi con la tecnica dell'abbraccio, ormai nota un po' in tutta Italia. È stata beccata sulla marina di Torre del Lago insieme al compagno e gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno accertato che si trattava proprio della ragazza romena. La tecnica ormai nota consiste nell'avvicinare persone anziane, abbracciandole per poi sottrarre loro beni preziosi, in particolare orologi e bracciali. Alle spalle aveva un precedente per un furto di un Rolex, pensate, commesso nella provincia di Varese ai danni di un anziano. Gli operatori quindi l'hanno arrestata perché su di lei pendeva un provvedimento proprio a causa di questo precedente e è stato fermato anche l'uomo che era con lei ed si è proceduto con il provvedimento del divieto di ritorno a Viareggio per tre anni. Lasciamo la pagina di cronaca, veniamo adesso alla politica. Sembrano allargarsi i confini della maggioranza del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. L'ex capogruppo di Forza Italia, Rodolfo Salemi, da oggi è il delegato allo Sport. Resta nel gruppo misto, fa sapere, ma per il suo ex partito questo è di fatto un passaggio sui banchi della maggioranza. Sentiamo. Una delega nell'area da settimane che allarga di fatto i confini della maggioranza di Del Ghingaro. Da oggi Rodolfo Salemi, ex capogruppo di Forza Italia, fino a metà agosto, è il consigliere coadiutore allo sport. Non proprio un consigliere delegato, perché tale figura non è prevista dallo statuto comunale, ma comunque un incarico pieno ad occuparsi di tutte le attività del settore. Rapporti con le associazioni sportive, gestione e organizzazione di eventi e manifestazioni, gestione degli impianti sportivi, inclusa la formulazione di iniziative amministrative da sottoporre all'approvazione della giunta comunale. A breve sarà revocata la delega allo Sport, l'assessore Sandra May, alla quale resteranno la cultura e la scuola. Si concretizza così l'apertura alle forze politiche di minoranza, fatta in estate dal sindaco, che aveva chiesto ai consiglieri comunali la disponibilità ad assumere incarichi da coadiutori. Pochi giorni fa, invece, ai nostri microfoni, l'apertura al dialogo con il Partito Democratico. Per il suo ex partito, Salemi è di fatto passato in maggioranza. Ora finalmente potrà percorrere alla luce del sole, quella strada che già da tempo aveva mostrato di preferire, commenta il capogruppo e coordinatore di Forza Italia, Alessandro Santini, che chiede che Salemi venga rimosso dai ruoli ricoperti nelle varie commissioni come membro dell'opposizione. Positive le prime reazioni del mondo sportivo, al giovane e competente Rodolfo, da sempre amico delle importanti realtà sportive viaregine, e il commento di Cristiano Baroni, presidente del Viareggio Calcio, vanno i più sinceri auguri di buon lavoro nell'ottica del raggiungimento di obiettivi comuni. E mentre Salemi fa sapere, come già vi ho anticipato, che resterà nel gruppo misto formalmente, arrivano anche altre parole di apprezzamento per questo incarico, sono quelle del presidente del Viareggio Beach Soccer, Giancarlo Carpita. Accogliamo con soddisfazione la nomina di Rodolfo Salemi, scrive in una nota, con la quale trova risposta concreta alla volontà dell'amministrazione di seguire più da vicino le realtà sportive cittadine. Ci auguriamo, conclude il numero uno del Beach Soccer, che questo passo possa favorire un incontro a breve col sindaco per affrontare nello specifico le problematiche che interessano il Beach Soccer. E la politica si confronterà presto anche con il tema di sempre più stretta attualità, la realizzazione dell'ultimo lotto, degli ultimi lotti dell'asse di penetrazione, di cui si parla ormai da decenni infiniti. Sul tema interviene anche il consigliere comunale, Giuseppe De Stefano. Sentiamo a servizio. Se ne parla da quasi 40 anni, ogni volta che il tema completamento dell'asse di penetrazione o via delle darsene o ancora via del mare, come è stato ribattezzato ultimamente, torna alla ribalta della cronaca via regina, comitati, forze politiche di maggioranza e minoranza o semplici cittadini esprimono i pareri più diversi. Si va da chi è assolutamente contrario all'opera e la giudica inutile, a chi vorrebbe che l'ultimo tratto dell'asse dalla via Indipendenza al Porto passasse a sud dello Stagio dei Pini fino a chi per ora l'utilizzo della viabilità esistente per raggiungere il mare. Recentemente il sindaco di Viareggio del Ghingaro ha riproposto la questione asse di penetrazione, oggi fermo alla via Nicola Pisano nel quartiere Campo d'Aviazione. La sua amministrazione vorrebbe il completamento dell'opera, però ci sono da sciogliere alcuni nodi. Stamani il consigliere Giuseppe De Stefano, ora all'opposizione, lancia la sua proposta. Invito attraverso questo i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, 5-6 di noi, che sottraggano alla magistratura la possibilità di dire quando e come si farà e completamente fino a via Indipendenza da via Nicola Pisano, nella fervetta. Quello che io propongo è che il sindaco sia indirizzato a trovare una forma extra giudiziaria di accordo con la proprietà che si completa il secondo lotto. Intanto con oggi sono partite, anzi ripartite, le operazioni di dragaggio dell'imboccatura del porto via almeno in una prima fase 20.000 metri cubi di sabbia. Sentiamo. È iniziato stamani il dragaggio dell'imboccatura del porto di Viareggio, un intervento che ha l'obiettivo di permettere l'entrata e l'uscita in sicurezza delle imbarcazioni. Per il momento saranno 20.000 i metri cubi di sedimenti che la ditta incaricata preleverà con la motodraga Giuseppe Cucco dalla brema di sabbia antistante l'imboccatura del porto di Viareggio. Materiale questo che sarà poi riutilizzato per il ripascimento della spiaggia davanti a Piazza Mazzini. Si è così concluso un importante itere amministrativo partito dall'autorità portuale regionale che consentirà la rimozione di quella secca di sabbia che attualmente rende difficoltose le manovre di ingresso e uscita dal porto di Viareggio riportando le quote di pescaggio a profondità più funzionali alle esigenze dei grandi yacht. Questa operazione rappresenta la prima tranche per il bienno 2017-18 di un più ampio progetto di dragaggio dell'intera brema di sabbia che dallo specchio aquio antistante l'imboccatura si stende fino a lambire la spiaggia formatasi davanti alla diga foranea per un totale di circa 110.000 metri cubi. Per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di escavo del porto la Capitaneria ha emesso una serie di ordinanze. Per tutta la durata delle operazioni da oggi e fino al 17 novembre è vietato a tutte le unità navali in ingresso e uscita dal porto transitare, sostare o effettuare qualsiasi attività di superficie e subacquea ad una distanza inferiore a 100 metri dalla motodraga. Inoltre nelle aree oggetto dei lavori sia di escavo che di ripascimento sono vietate la balneazione la pesca subacquea e l'attività di immersione per qualunque finalità. Per tutte le barche di lunghezza pari o superiore a 30 metri è previsto l'obbligo di chiamata sul canale VHF alla capitaneria al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso o all'uscita dal porto. Restiamo a Viareggio la giunta comunale ha dato il via libera al piano delle antenne di telefonia mobile e le nuove installazioni saranno solo nelle zone meno urbanizzate. Sentiamo il servizio. L'amministrazione di Viareggina ha valato il piano regolatore degli impianti di telefonia mobile ovvero il regolamento per la localizzazione l'installazione e la modifica di alcuni impianti come quello di via Matteotti. L'installazione sarà consentita in aree libere e a basso carico urbanistico. Il nuovo piano è stato presentato ai comitati nel corso di questa settimana e adesso andiamo avanti con il lavoro andremo in commissione e poi andremo in consiglio comunale entro la fine del mese quindi prima del 31 ottobre che è la data ultima per la presentazione dei piani di implementazione da parte dei gestori. È un piano che di fatto andando a individuare e andando a programmare i siti e le modalità con cui possono essere implementati i servizi delle antenne per la telefonia mobile sul territorio va a bloccare la nascita di nuovi siti incontrollati come è stato in tutti questi anni. Di fatto mettiamo uno stop al proliferare di questi impianti andiamo a dare ordine a questa materia avendo fatto anche uno studio importante in collaborazione con l'Università di Firenze e con il Dipartimento di Fisica Ambientale che ci consente di valutare il carico diciamo il carico che questi impianti portano e a valutarne anche gli effetti sulla salute pubblica sulle strutture sensibili su tutto quello che deve essere tenuto ben presente prima di autorizzare impianti di questo tipo. È un piano importante che viene atteso in comune da oltre dieci anni praticamente perché l'ultimo risale al 2007. E nei prossimi giorni sentiremo il parere anche dei comitati che da anni si battono contro la presenza di alcune antenne sul territorio e a richiesta di un piano della telefonia entro pochi giorni o a massimo una settimana faranno conoscere la propria posizione sul documento appena presentato. Restiamo ancora a Viereggio gennesima segnalazione di rifiuti abbandonati in strada ancora foto che ci arrivano dai nostri telespettatori vedete qua siamo in via Paladini al quartiere Varignano a Viereggio i residenti segnalano quello che è già chiaro da queste immagini con sacchetti ovunque intorno ai bidoni della differenziata qua è ancora un'immagine che ci arriva dalla periferia di Viereggio dove si ammassano i sacchetti dell'immondizia e c'è l'altro allarme che ormai è già noto da molto tempo la presenza di topi e altri eruditori che si trovano intorno a queste vere e proprie discariche che restano purtroppo per tanto tempo sulla strada una situazione che preoccupa chi abita nei condomini vicini adesso invece parliamo della stazione di Forte Remarmi ovvero quella di Quercete e Seravezza che fa sapere le ferrovie dello Stato sarà chiusa al pubblico nella sala d'attesa si intende dalle 23 alle 5 a partire dal lunedì 23 ottobre dunque una decisione che va in controtendenza con quanto accaduto fino ad oggi in questa fascia oraria non arrivano non partono treni nella stazione specifica RFI nella nota la disposizione è stata concordata dall'amministrazione comunale con le autorità e con la Polfer per contrastare fenomeni di occupazione non autorizzata e di conseguenza il degrado degli spazi aperti al pubblico entro novembre anche al Varco in corrispondenza del sottopasso viaggiatori sarà chiuso con un cancello in fase di realizzazione dunque un provvedimento preso da Ferrovie e Comune contro i bivacchi e contro il degrado alla stazione di Querceta adesso con le immagini invece andiamo a Lucca da oggi in centro storico in piazza Guidiccioni campeggia una statua dedicata al musicista lucchese Francesco Geminiani pensate realizzata da un artista via Regino sentiamo da oggi in piazza Guidiccioni campeggia una statua dedicata al musicista lucchese Francesco Xaverio Geminiani in questo modo finalmente la città di Lucca rende omaggio a musicista e compositore che insieme a Luigi Boccherini e Alfredo Catalani e naturalmente al maestro Giacomo Puccini ha contribuito a renderla una città della musica tuttora riconosciuta a livello internazionale l'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione del comune con l'associazione culturale Francesco Saverio Geminiani che ha donato la statua con il contributo di numerosi enti e associazioni la statua è stata realizzata dall'artista via Regino Nicola Domenici è soddisfattissimo ovvio quando uno scultore mette un'opera come questa in una piazza è un po' l'apice del raggiungimento di tanta fatica tanto lavoro è una grande soddisfazione poi a Lucca una città come Lucca credo che sia ottimo ottimo realizzata in marmo di Carrara la scultura ha un'altezza di due metri e mezzo era giusto ricordarlo tra le glorie lucchesi perché Lucca città della musica non poteva mancare di ricordare questo suo autore stimatissimo all'estero più che nel nostro paese ma il grande innovatore dell'arte del violino tant'è che qui è rappresentato appunto con un violino con il violino in mano la mano che tiene il violino è più grossa dell'altra appunto per significare questa maestria nell'uso di quello strumento ci fermiamo per una breve pausa tra poco di nuovo insieme con tutte le notizie sportive eccoci ben ritrovati con la pagina sportiva del TG Noi in Versilia il calcio in primo piano questa sera spazio al campionato di seconda categoria facciamo il punto della situazione per le versiliesi nel servizio di Roy Lepore nel campionato di seconda categoria Girone A spicca il primo posto della Torre Laghese con 13 punti con 3 di vantaggio sul trio composto da Forte De Mami Filvil e Fivizanese le immagini di Fortis Camaiore Fivizanese di Mondo Calcio Versilia evidenzano la vittoria per 5 a 1 dei padroni di casa grazie alla tripletta di Luisotti e la doppietta di Simonini mentre per gli ospiti la rete della bandiera è di Gasman sconfitta dell'idoli di Camaiore per 3 a 2 con il Filvilla del Corsanico 2 a 0 a Vecchiano e del Versilia 2 a 1 a Monti la Torre Laghese ha superato 3 a 0 il Monzone il Quiesa Massaciuccoli 2 a 1 la fila a Thierese al microfono di Carlo Cosci ascoltiamo l'allenatore del Fortis Camaiore Francesco Orsetti e il collega della Fivizzanese Giuliano Bertolini la classifica diciamo secondo me non ci rendeva tanto merito avevamo 3 punti prima di oggi 3 pareggi e abbiamo buttato via diversi punti secondo me poi vittoria anche che dà morale e i ragazzi hanno fatto una grossa partita e tutti tutti molto bene e ne avevamo bisogno una sconfitta un po' pesante forse dovuta anche al fatto delle due ore giocate mercoledì in Coppa a Villa Franca che abbiamo speso un po' troppo purtroppo siamo in un momento che siamo un po' conti qualche ragazzo infortunato e oggi l'abbiamo pagata probabilmente cara ancora per il calcio ma veniamo alla terza categoria girone A con i risultati del recupero retiniano Sporting Forte Remarmi è finita 0 a 2 reti di Pellizzari e Macchiarini nel secondo tempo con questa vittoria lo Sporting raggiunge il gruppo di testa quota 6 invece il retiniano resta a 0 punti il Camaiore invece ha perso 2 a 0 e supplementare contro il Lavorno siamo in Coppa Italia per il campionato di promozione lasciamo il calcio adesso c'è la ginnastica ritmica con un ottimo risultato per la formazione versiliese della ginnastica moto di Viareggio si è aperto con uno splendido quarto posto la serie A1 di ginnastica ritmica per la moto a Desio provincia di Monzebrianza la società via reggina ha sfiorato il podio nella prima tappa del massimo campionato ha totalizzato 89.500 punti un'ottima prestazione di squadra nella quale spiccano quelle di Sara Rocca e la campionessa bielorussa Cazierina Alchina che hanno ottenuto i migliori punteggi di giornata rispettivamente al corpo libero e alla palla grande soddisfazione per questo avvio di campionato per la direttrice tecnica Donatella Lazzeri e il suo staff ovvero Francesca Cupisti e Angelica Francesconi da Massarosa intanto fanno sapere che è in programma per domenica 22 ottobre il 43esimo trofeo Avis Stiava è una marcia podistico ludico e motore in programma per questa domenica con vari tracciati con una grande partecipazione questo almeno è l'ospicio da parte degli organizzatori i percorsi sono di 10 e 28 chilometri con una pausa ristoro dunque invito a partecipare a questa domenica di sport ci fermiamo per una brevissima pausa tra poco siamo di nuovo insieme con la terza parte del TG Noe Versiglia e gli eventuali aggiornamenti ben ritrovati terza parte del TG Noe Versiglia non abbiamo aggiornamenti di cronaca prima di salutarci ci sono come sempre gli auguri anche questa sera gli auguri di buon compleanno stasera vanno a Luigi Lipari di Viareggio che festeggia gli anni auguri da parte dei compagni di squadra dell'ex ancora al terminetto ovviamente da parte degli amici e dei familiari più stretti ed è davvero tutto per questa edizione io vi ringrazio per averci seguito e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata